Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato agli snapshot di Minecraft 1.20 slash 1.19.4 Oggi andiamo a vedere lo snapshot 23V06A Questo video arriva abbastanza tardi rispetto al solito perché stavo in live a giocare a Hogwarts Legacy Gioco che ho iniziato ieri, ho portato oggi e per dirla tutta porterò anche domani Domani pomeriggio ci sarà una live sulla Survival e poi un pezzo di live su Hogwarts Legacy E già che ci siamo vi ricordo che stasera sono in live alle 20.30 con It Takes Two Un'altra serie che stiamo facendo in live insieme a TR Quindi se volete link in descrizione e almeno abbiamo già detto tutto Questo snapshot era uno snapshot che poteva riservarci diverse sorprese Perché ragazzi l'archeologia torna a far parlare di sé E possiamo di nuovo ribadire che sia praticamente certa quasi Oddio usare il termine certo con Mojang e Minecraft forse ultimamente non è mai un'ottima cosa Però diciamo che c'è stato una svolta, c'è stata una svolta molto importante che tra poco vi dirò Ma prima andiamo a vedere che cosa aggiunge o che cosa cambia questo snapshot Che va a inserire tutte delle modifiche, delle novità che rendono il gioco un'esperienza migliore Delle cose più semplici da fare anche se rientra un po' nel campo degli snapshot tecnici La prima cosa che andiamo a vedere riguarda però qualcosa che non è tecnico per niente Anzi è una cosa visiva Ovvero il jukebox quando noi gli inseriremo un disco all'interno Ora farà delle particelle di note Quindi come vedete escono delle note da sopra Per farci capire che è attivo anche visivamente E ma Aaron questa cosa già c'era Sì caro utente Bedrock Sulla Bedrock c'era già Non sulla Java Hanno fatto questa modifica Per rendere le due versioni simili E quindi fa parte delle novità pariti Quindi quelle novità che sono state messe in una versione Ma che arrivano solo dopo in un'altra Piccola cosa Andiamo avanti E lo so che tutti aspettate lo sniffer L'archeologia Tra poco ne parliamo Intanto voi lasciate un like e iscrivetevi Perché quando uscirà l'archeologia Non ve la vorrete perdere Quindi mi raccomando Iscrivetevi al canale Ora detto questo Quello che vi vado a mostrare È comunque qualcosa che se giocate a Minecraft da tanti anni Vi farà più che sorridere Perché se noi andiamo nel menu in creativa E andiamo nei blocchi decorativi Anzi funzionali Cioè qui Notiamo che non c'è più solamente un quadro Ce ne sono diversi Ora ogni quadro del gioco Almeno in creativa Ha il suo oggetto E possiamo distinguerli in questo modo Con il nome Il titolo Diciamo del quadro E il suo autore Oltre che le dimensioni Tipo 2x2 blocchi O ad esempio 1x1 O ad esempio 4x3 Quindi che cosa succede Con il quadro solito standard Quello che è la dicitura Random In questo caso Sarebbe il primo Random variant Possiamo ottenere qualsiasi quadro Ma se andiamo a mettere uno di questi Il quadro che uscirà Sempre che ci stia Perché se no non si riesce a mettere È sempre quello Non cambierà Mai Perché questa icona Questo oggetto Fa uscire solo quel quadro Quest'altro può uscire solamente questo quadro Ad esempio E quest'altro ancora Fa uscire solamente Quest'altro quadro gigantesco Che sembra non starci Come facciamo a farcelo stare Eccolo qui In survival questa cosa non c'è ancora Ma almeno in creativa Ragazzi Quando vuoi buildare con un quadro Aspettare che ti esca quello giusto È davvero stressante Finalmente hanno messo questa cosa Speriamoci diano Prima o poi In modo anche in survival Di ottenere il quadro che vogliamo Di poterlo scegliere E nel caso Troppi l'oggetto Lo devi rimettere Di riottenerlo Immediatamente Novità tecnica Che riguarda invece Il danno E motivo per cui L'ho scritto anche un post community oggi Uno sviluppatore Ha teaserato uno screenshot Dove si leggeva Che lui era morto Per disidratazione E dice Che cos'è la morte Per disidratazione E come ha fatto Hanno aggiunto un nuovo mob No Diciamo che Era un po' Un teaser trollino Perché riguarda Questa novità Un nuovo comando Ora Mi metto in survival Così ve lo faccio capire Se noi andiamo a fare Slash Damage E vado a selezionare O un'entità O in questo caso Un me stesso O un altro giocatore Posso dire Quanto danno Devo subire E di che tipo Ad esempio Voglio subire 3 cuori di danno O anzi 3 punti danno Quindi forse Mi da un cuore e mezzo In questo caso E posso Scegliere il modo Quindi ad esempio Esplosione Subisco 3 di danno A causa di esplosione Quindi mi toglie Un cuore e mezzo Esattamente Oppure il danno Può essere di un altro tipo Potrebbe essere provocato Da una falling anvil Quindi una anvil Che mi cade sopra Ora io Prendo sempre Lo stesso danno Quindi non è Che cambia Chissà che cosa Danno da ghiaccio Cambia ad esempio Il suono In questo caso Però Sì L'aspetto è sempre quello Questa novità Però potrebbe essere utile In caso di Mappe Comandi Cose particolari Dove è importante Il tipo di danno Che viene ricevuto E Inoltre Avere un comando Che ti dà Il danno esatto E può arreccare Il danno esatto Un'entità O un player È molto utile Per diverse cose Ad esempio Quando c'erano le UHC Capitava che Un giocatore Non ricevesse del danno Perché è buggato E bisognava darglielo E in questo modo Con questo comando Sarebbe stato molto più semplice Rispetto a dirgli Di saltare giù Stack di oggetti In un stack di oggetti In particolar modo Con il nome Perché Perché è un noto Emoji di un cammello E lo snapshot È uscito subito dopo Oppure È lo stesso Licker Che ha Lickato Alcuni menu Molto prima Del tempo Mesi prima Della loro uscita Di Minecraft Legends Alcuni che non sono ancora Stati mostrati Ufficialmente Da Mojang Addirittura Inoltre È il famoso Licker Di cui abbiamo parlato Tanto Che ha Lickato Per intero Il mob vote Anticipandoci Di giorni I nomi Dei tre mob E pian piano Anche un po' Quello che facevano E abbiamo poi verificato Che era vero Quindi un Licker Davvero affidabile Che in qualche modo Ha queste informazioni Forse è un infiltrato E che sa Cosa si muove In Mojang Questo Licker Ieri Ha twittato Con un vaso Un emoji Di un vaso Antico È un Inequivocabile Indizio Per l'archeologia Ha twittato un vaso Perché L'archeologia A detta sua Sta per arrivare E quindi ce lo vuole Far capire Con questo piccolo teaser Non è arrivata Nello snapshot Di oggi Magari Hanno visto Che è uscito Questo leak Ne parlavano Già in molti Hanno voluto Rimandarla Per fare il dispetto Non si sa Oppure semplicemente Uscirà settimana prossima O Intendeva dire Che arriverà E basta Però apparentemente Questa è l'ennesima Conferma Del fatto Che sembra esserci L'archeologia Il lavoro In lavorazione Per la 1.20 Dico ennesima Perché l'altra volta Ne abbiamo parlato Per via di indizi Di addirittura Uno sviluppatore Che ha tiserato L'archeologia E quindi più ufficiale E quindi più ufficiale di così Non si può Avendo visto questo leak Sarò sincero Mi aspettavo a sorpresa L'archeologia Oggi Così non è stato Però occhi aperti Già dalla settimana prossima Perché se lo ha fatto Un motivo ci sarà E forse l'archeologia Sta davvero arrivando Abbiamo visto Quelle armature Trimmed Che hanno preparato Una grandissima novità Senza far trasparire nulla E quindi Non mi sorprenderei Se droppassero Di punto in bianco L'archeologia Senza dire nulla Prima di farlo Quindi occhi aperti Iscrivetevi al canale Così da non perdervi Nessuna novità In arrivo Noi Detto questo Ci vediamo domani Con un nuovo video Stasera Con la live In cooperazione Sarà un gioco Molto divertente Se non lo conoscete Dategli un'occasione Fidatevi Quindi alle 20.30 E detto questo Un saluto da Eren Ci vediamo stasera O domani Ciao a tutti